Non solo Marchice Riccardi ma anche Scrosta. Il Foggia sta per mettere a posto la difesa e nelle prossime ore sono attese le ufficialità. Il difensore bosniaco potrebbe essere il primo in ordine di tempo, dopo due anni a Biceglie e due a Viterbo, con oltre 100 presenze in terza serie nazionale, torna alle dipendenze di Canonico che lo portò in Italia quattro stagioni fa. La novità si chiama Edoardo Scrosta, classe 1992, veterano della categoria con oltre 200 gettoni tra i professionisti. E' legato alla fermana con un contratto in scadenza a giugno 2022. Potrebbe fare al caso di Zeman che per la retroguardia vuole affidarsi a gente esperta, in grado anche di fare da motivatore ai compagni di squadra più giovani. Sempre vivo l'interesse per Davide Riccardi in uscita da Lecce dopo l'esperienza al Catanzaro. Tre nomi che circolano sul tacquino del DS Pavone, anche quello dell'esperto Alcibiade, 31 anni, ex Provercelli e Juventus Under-23. In attacco si punta Bernardotto dell'Avellino, ma sul calciatore pare essersi inserito in maniera decisa il gubbio. Attesa ancora per l'esito del ciclo di tamponi, in caso di negatività di tutto il gruppo, l'amichevole in programma lunedì 9 agosto contro il Pavia potrebbe disputarsi per la soddisfazione dei tifosi che nonostante gli allenamenti a porte chiuse hanno deciso comunque di sobbarcarsi migliaia di chilometri per stare vicino alla squadra.